buongiorno a tutti grazie approfitto per salutare l'amico don luca che aveva parlato prima di me ciao luca la visione che hanno le imprese sull'argomento dell'intelligenza artificiale è prima di tutto quella di percorrere un tentativo di ricondurla molto diciamo elementi di pragmatismo perché dal punto di vista delle imprese finalmente dopo molto tempo molte ore di lavoro dedicate una fase di evangelizzazione non me ne voglia don luca e di sensibilizzazione sul tema del digitale in genere nei confronti delle imprese il territorio premontese possiamo siamo con una buona sorte di confidenza un buon livello di confidenza affermare che un percorso questo della della percezione del valore digitale nel mondo delle imprese soprattutto piccole medie concluso quindi le mondo delle imprese ha compreso la necessità e l'opportunità di compiere quella transizione verso digitale vedendo in queste technology in queste diciamo tecnologie lo strumento la possibilità di affrontare la crisi ed affrontare il tema della ripresa all'interno dell'un concetto più ampio quello di digitale quello dell'intelligenza artificiale ovviamente ha un focus molto preciso molto importante molto sentito sul territorio perché c'è la questione dell'assegnazione a torino appare istituto dell'intelligenza artificiale e uno dei primi punti che mi sento di portare a questo come ad altri tavoli è quello di cercare di avere la certezza che questo avvenga e che avvenga nei tempi più rapidi possibili perché noi abbiamo a fronte di dichiarazioni dell'ex presidente del consiglio dell'assegnazione dell'intrea a torino ancora un iter che in itinere deve essere ancora concluso e il territorio il territorio comunque sicuramente le imprese del territorio hanno bisogno di capire avere la certezza che questo percorso verrà concluso e verrà concluso in fretta perché c'è questa necessità perché effettivamente gli investimenti che le imprese vogliono portare avanti nell'ambito dell'intelligenza artificiale sono concreti sono affiancati da progetti concreti e da idee di progettualità penso che sappiate che nello scorso anno in base a dei lavori fatti da osservatorio.net gli investimenti nell'ambito dell'intelligenza artificiale a livello nazionale sono stati per oltre 300 milioni quindi nonostante un periodo economicamente devastato dagli effetti della pandemia investimenti con focus intelligenza artificiale sono stati di oltre 300 milioni l'ambito fintech è stato quello che ha contribuito di più a questo livello di investimento ma anche altri ambiti hanno operato investimenti nel mondo dell'intelligenza artificiale dal manifatturiero alla sanità alla smart gov ma sono stati circa 300 milioni di euro di investimento su processi di intelligenza artificiale molti sono stati fatti di questi investimenti investimenti nell'ambito del lessico sapete c'è stato un incremento di oltre il 30 per cento dei sistemi di chat box e di virtual assistant e lo scorso anno sicuramente c'è stato una grande investimento sulla parte diciamo di object detection ovviamente questo dovuto agli effetti pandemici quindi la necessità di rilevare sostanzialmente nei principali varie di accesso il rispetto delle varie normative dei dispositivi di sicurezza diciamo anche imposti dai protocolli del dpcm però ci siamo stati è uno dei pochi comparti quello del digitale ma dell'intelligenza artificiale nello specifico che ha avuto un incremento importante da parte dei investimenti il territorio veda all'insediamento e all'attivazione di questo grande polo su questa tecnologia dell'intelligenza artificiale una grande opportunità un'opportunità per le imprese di portare avanti la propria transizione di scaricare a terra le ipotesi di progettualità che hanno è un'opportunità per il territorio tutto perché Torino è la parte industriale di Torino sia Confindustria Piemonte che Unione Industriale di Torino che il sistema camerale quindi la Camera di Commercio di Torino sta investendo molto nella sensibilizzazione dei principali stakeholder della città per far sì che attraverso anche un soggetto così importante un pilastro così importante come l'I3A Torino riesca a connotarsi e a sviluppare maggiormente la propria propensione ed essere creare un humus un ecosistema con una curvatura digitale che sia fertile per quelle imprese che vogliono portare avanti la propria transizione digitale e rendere il territorio attrattivo per quelle imprese di vari comparti produttivi che però individuano nello strumento del digitale e dell'intelligenza artificiale un valido alleato per portare avanti le proprie politiche di crescita quindi c'è un'attenzione un'aspettativa molto forte sulle possibilità che l'ente potrebbe dare a un territorio come quello di Torino e c'è molta attenzione anche perché la modalità la governance e le policy di questo ente vadano anche verso una particolare attenzione ai desiderata dell'impresa quindi il sistema che oggi sono qui a rappresentare pone come punto di attenzione quella della definizione dell'insediamento dei tempi dell'insediamento e soprattutto delle policy che poi l'istituto dovrà avere molta attenzione noi la poniamo sul fatto che alcune delle indicazioni che nel documento ministeriale sono state diciamo accennate o comunque descritte in maniera ancora ovviamente definitiva perché non sono state decretate uno dei punti di attenzione è un po' la ripartizione del sostegno finanziario al tipo di attività su quel documento era indicato una ripartizione 80 20 dove 80 erano iniziative a sfondo di ricerca pura e 20 80 per cento e 20 per cento erano iniziative fondi dedicati all'attività di ricerca precompetitiva è ovvio che come sistema industriale noi siamo molto attenti a tutto ovviamente l'investimento ma in particolar modo a quel 20 per cento quindi il fatto che ci sia un sito e sappiamo bene come sono organizzati i poli che hanno un sito principale e dei siti no di dislocati poi su tutto il territorio nazionale che contribuiscono all'iniziativa e l'attività in questo caso dell'itrea il fatto che ci sia una ricaduta anche sul territorio la parte diciamo di scivoli tecnologici è un punto di attenzione molto forte che il sistema delle imprese a quindi noi nei confronti dell'itrea abbiamo una particolare attenzione per quello che rappresenta quello che può rappresentare per la città dal punto di vista della ricerca e del posizionamento sul territorio nazionale come elemento di ricerca ma molta attenzione la poniamo anche sul fatto che l'organizzazione le polisi di governance di questo ente riescono ad avere una ricaduta in quelli che noi chiamiamo scivoli tecnologici quindi la possibilità per le imprese di avere un luogo dove poter sperimentare e toccare con mano cosa può essere dal punto di vista di accelerazione per le imprese dell'adozione di tecniche tecnologie e metodologie legate al mondo dell'intelligenza artificiale quindi questi sono tre punti per noi molto importanti è ovvio che per far sì che questo avvenga c'è bisogno che tutto l'ecosistema si orienti in una determinata direzione quindi ci sia l'itrea ci siano i soggetti predisposti alla formazione alla creazione delle competenze in grado di erogare nuove professionalità nel mondo dell'intelligenza artificiale e del digitale nei confronti con gli stakeholder della città abbiamo avuto grandi rassicurazioni da questo punto di vista perché sia il rettore del politecnico ingegnere saracco e anche il rettore di unitò ci ha confermato che su questi temi c'è grande sforzo c'è grande visione ma dal punto di vista delle imprese abbiamo bisogno che anche altri livelli altri livelli del sistema formativo si orientano si orientino su un percorsi diciamo di formazione con curvatura digitale quello che sistema produttivo chiede di cui necessità oltre le 380 mila professionalità a livello nazionale che confindustria indicato come necessità nel mondo del digitale e un milione cento sempre a livello nazionale di figure professionali con curvatura digitale un sistema che si voglia definire un sistema appetibile per le imprese che vogliono fare del digitale dell'intelligenza artificiale uno dei loro pilastri per la propria produttività è quella soprattutto di avere skill e professionalità a curvatura digitale quindi un soggetto come l'itrea in un contesto in un humus come quello torinese piemontese che gode di eccellenze sia nel campo industriale di conseguenza anche nel campo dell'innovazione tecnologica nel campo della formazione abbiamo di rendere bisogno di rendere più capillare questo discorso della curvatura digitale quindi il potenziamento degli ts in tal senso tema caro tra parentesi alle politiche di confindustria anche nazionale è per noi un elemento essenziale il fatto che le varie discipline abbiano delle curvature digitali per noi sono essenziali per inserimento delle varie figure professionali che hanno anime e competenze verticali diverse poi nel mondo del lavoro quindi è molto importante il mondo digitale io come professione gestisco un'impresa che opera nel mondo digitale riporto la mia esperienza al nostro interno il nostro diciamo reparto HR ricerca molto oltre le figure diciamo STEM i laureati in filosofia i laureati in filosofia sono molto ambiti nel mondo digitale perché hanno una capacità una flessibilità mentale molto importante oltre che la diciamo possibilità di essere impiegati soprattutto su quelli lavori che sono molto diciamo eh permeante molto vicino al concetto dell'intelligenza artificiale soprattutto della semantica web quindi tutto il lavoro sulla semantica sull'autoapprendimento dei sistemi sulla capacità dei sistemi informatici e dei sistemi digitale di essere sempre più vicino alla necessità di colloquiare in maniera naturale con l'utente che attraverso chat box o altri sistemi è uno dei aspetti più sentiti e per portare avanti queste iniziative industriali in questo caso tipiche del mondo digitale il punto di partenza della professionalità non è quella tecnologica ma è quella di dominio poi gli elementi tecnologici si aggregano quindi contaminazione contaminazione per creare le figure professionali del profumo del profumo del futuro adesso in mente il nostro professore profumo questo questo aspetto importante io non ho avuto il piacere la possibilità di sentire l'intervento di Don Luca anche se non sentiti tanti in cui l'abbiamo discusso però noi dobbiamo lavorare anche per aggiungere a necessità e i spunti che ci ha dato Luca deve essere sempre di più lo strumento che utilizza e accompagna le necessità e da un certo punto di vista l'etica dell'uomo non può essere l'uomo che adotta l'etica della macchina ammesso che ci sia e non penso che Don Luca nella macchina trovi dell'etica noi dobbiamo fare il modo di trovare dei sistemi intelligenti dei sistemi intelligenti senza dimenticarci mai che l'intelligenza ai sistemi gliela diamo noi quindi è diciamo è speculare a quello che riusciamo a dargli dei sistemi che sia adeguino e si adottino sempre si adattino alle nostre necessità non soltanto pratica industriale ma anche diciamo di comportamento ed è per far questo c'è bisogno che non ci siano solo eserciti di ingegneri e su questo con Saracco ne abbiamo parlato tante volte e anche con chi i candidati ad amministrare questa città chi già amministra questo territorio questa regione dobbiamo trovare un la possibilità di andare in livello molto profondo nella formazione anche perché il digitale ce lo consente la catena di produzione dei processi digitali ci consente di utilizzare figure professionale con uno skill molto differente tra di loro quindi si parla si parte sicuramente dalla grande dall'alta formazione e in base agli anelli della catena del valore di produzione si può scendere su livelli di preparazione e di professioni professionalità variegata e molto profonda questo è un vantaggio per un territorio secondo noi che si approccia ad avere un'anima digitale perché consente di accedere anche a quelle sacche socio economico le sacche sociale quelle quelle fasce sociali che in altri comparti o in altri momenti in altri ragionamenti rischiano di essere un po' tagliati fuori dai discorsi delle occupazioni del futuro il digitale non sempre chiaro questo non sempre chiaro non sempre chiaro ed è un tema delicato da trattare ma devo dire che per esempio sia il rettore di unitò che di politò sono molto sensibili su questi non ha bisogno necessariamente o perlomeno esclusivamente di figure professionali di fa di fascia altissima di fascia altissima e non era di minuzio per il comparto questo non era di minuzio è ovvio che l'istituto di intelligenza artificiale rappresenterà l'avamposto tecnologico formativo ma quello che riuscirà la filiera che riuscirà a trascinarsi dietro è molto importante perché è un buon elemento una buona leva per poter andare a scalfire quel dato devastante anche nel nostro territorio che è quello della disoccupazione nel nostro territorio particolarmente questo dato devastante se legato allo spaccato della disoccupazione giovanile che oltre il 30 per cento oltre me di tenere questo territorio un altro triste primato che è quello dei NIT i NIT a Torino in Piemonte hanno purtroppo diciamo il primato a livello nazionale quindi queste nuove forme di lavoro questa possibilità di modulare i livelli professionali danno a un territorio come il nostro siamo gli elementi per poterli affrontare in maniera competitiva e il punto di eccellenza un punto di eccellenza importante un avamposto tecnologico un elemento in grado di trainare tutto un humus intorno come l'istituto di intelligenza artificiale assume di conseguenza per la città un significato anche industriale e sociale molto 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 importante anche per la città un'attività